Capitaneria di Porto chiusa la pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso. La Capitaneria di Porto con un aspettato ritardo di oltre due settimane rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, anche quest'anno ha decretato l'immancabile chiusura anticipata della pesca sportiva e ricreativa al Tonno Rosso. La disposizione della Capitaneria di Porto di Siracusa dalle 8 del 4 agosto, l'interruzione immediata delle catture di Tonno Rosso riconducibile al settore della pesca sportiva e ricreativa per l'anno 2021. La chiusura è stata disposta con apposito decreto direttoriale dalla Direzione Generale della Pesca Marittima del Ministero della Politica Agricola, Alimentare e Forestale in attuazione della normativa comunitaria a seguito dell'esaurimento del contingente assegnato alla pesca non professionale relativamente all'annualità corrente e pertanto vietato pescare, detenere e sbarcare esemplari di Tonno Rosso, fatta salva la possibilità prevista per le imbarcazioni autorizzate di proseguire l'esercizio dell'attività fino al 31 dicembre esclusivamente con la tecnica del Catch and Release. I contravventori saranno sanzionati senza della normativa di settore vigente.